In Vianovelli oggi è con noi Francesca Letto, vieni Francesca! Che bellezza! Ciao Francesca, prego! Oh che bello averti qui Francesca perché è un po' come tornare a casa nel tempo. È vero, per noi è un po' una carambata, devo dire questa cosa. Pensavo che ci fossero metti Filippi e apri la busta, togli la busta, metti... Invece no, invece è stato più semplice. Sì, perché nonostante tu hai l'età dei loro, e io la conosco da molto tempo, nonostante lei abbia la vostra età, più o meno. Sì, vabbè, io vi posso dire una cosa in apertura. Avevo l'ansia da prestazione, anche con voi, con tutti. No, abicela, abicela. Perché ho detto, caspita, adesso stavo un po' ripercorrendo le tappe del mio lavoro, stavo facendo i conti, ma abbiamo iniziato veramente le calende greche. Ma non c'erano ancora i greci, c'erano ancora i fenici, invece non erano ancora arrivati. Bene, meno male almeno. Però è sempre uguale. Francesca, adesso basta che ho i complimenti, tanto ti presento loro. Sì. Sono i ragazzi e le ragazze anche del Turoldo di Zogno. Se hanno fatto tutto per questo. Faccio io un applauso a voi. Grazie. Non so se ci sarà un Giorgio, cioè se c'è qualcuno così squinterato che sia un Giorgio, però magari ci sarà una Francesca nel futuro, in questi ragazzi, che hanno preparato una social card, in particolare l'hanno preparato. Nicola, Alessandro, Alice, Alessia e Lisa. Perciò tutto quel gruppo di qua. Ah, Alessia è di là. Tutto quel gruppo di là. E la vediamo subito. Vediamo chi sei tu attraverso i social. So che tu corri molto. No, ti corri molto, però noi facciamo delle cose esatte e delle cose no. Vediamo. Vediamo. Ecco la social card di Francesca. Francesca Leto, classe 76, nasce a Saronno, in Piemonte. La bella bionda è conduttrice televisiva, presentatrice radiofonica ed attrice. Esordisce come valletta su Canale 5 con la Sai L'Ultima, per poi diventare meteorina per Emilio Fede. Indossa anche i panni di televenditrice a fianco di personaggi del calibro di Mike Buongiorno e Gerry Scotti. Grazie alla sua voce, sua dente e alla sua spiccata personalità, approda su Radio Italia. Per questo partecipa a molti eventi dove ha conosciuto alcuni personaggi famosi. Nella quiete della sua casa a Milano, fa brecciano il cuore dei suoi fan, condividendo articoli di vario genere sul blog Be Happy. Mostra il suo lato migliore sui social, dove posta foto dei suoi viaggi e del figlio Pietro, il suo più grande successo. Inoltre le piace mettersi in mostra e specialmente sfoggiare i suoi outfit sui social. Ma cosa ne penserà Enzo Miccio? La nostra miss piedi d'oro ama prendersi cura di sé e mantenersi in forma praticando la pole dance. Ma quando scende dal palo non rinuncia a sbizzarrirsi in cucina. È proprio una donna multitasking. Non tutti sanno che Francesca adora gli animali, specialmente gli agnelli. Visto che li ama molto e ha pure dichiarato su Instagram che non le piace nemmeno il cioccolato, Francesca, ma tu a Pasqua cosa mangi? Allora Francesca, tu ti sei ritrovata? C'erano delle misattezze? No, mi sono ritrovata, tra l'altro bravi, molto attenti nella ricostruzione. Tra l'altro ero curiosa della social car perché io vi seguo, quindi so, 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 so. Uno arriva adesso perché dice, beh c'è Giorgio, però c'è la social car. Esatto, ero curiosa di vedere attraverso i vostri occhi che cosa emergeva dai social, perché voi sapete che molto spesso noi cerchiamo di dare un'idea di noi attraverso il mezzo che usiamo per comunicare, ma proprio perché parliamo di noi stessi delle volte perdiamo un po' di vista che strada percorrere. Magari vogliamo dare un'idea e in realtà ne appare un'altra, invece devo dire che mi do una pacca sulla spalla. Bravo, c'è un po' di autostima che serve nel nostro lavoro sempre, giusto? Sì, sì. Io partirei al contrario di quello che faccio, di solito parlo io e poi leggo le domande dei nostri coautori, però visto che ti conosco non voglio correre il rischio di dare per scontato nulla, io leggo alcune domande che hanno preparato loro, subito così per introduzione. Non so chi la scelta è proprio tra Lisa, Nicole, Alice e Alessia, o Alessandro, ma ti chiedo ad esempio per quanto riguarda la tua vita amorosa cosa ci racconti? Ah, subito così, un colpo basso così. Ah, sì. Vita amorosa. Vita amorosa, esatto, perché vi siete accorti che io non condivido così, insomma, profondamente quella che è la mia vita sentimentale. E come è che l'hanno chiesta? Perché siete curiosi. Eh sì, sì, perché non lo faccio? Uno, perché mio marito non ama assolutamente tutto il mondo social, quindi non ha neanche profili né niente. È un po' a social. È a social e tra l'altro sono io che l'ho fatta uscire dai social ai tempi, perché... Eri gelosa? No, non per una questione di gelosia, però perché perdeva veramente un sacco di tempo, in curiosità, cose del genere. Ah, scusa, tu hai capito Paolo? Lei che vive sui social dice no, tu perdi un sacco di tempo, togliti. Tu togliti che perdi un sacco di tempo. No, in realtà col passare del tempo poi mi ha ringraziata e mi ha detto ma sai che veramente perdevo un sacco di tempo sui social? Perché un conto è se c'è una finalità o se ha un'idea di svago, di passatempo. Ma quando poi si entra in quei circuiti di catene, gruppi, eccetera, eccetera, devi seguire, devi far parte. Per cui effettivamente c'è anche un po' il discorso tempo. E come l'ha conosciuto tuo marito? Eh, la classica serata in un locale, io ero con una mia amica, lui non c'era, un suo amico mi corteggiava. Ah, lui non c'era, l'hai conosciuto che lui non c'era, che non è male. Il suo amico che mi corteggiava l'ha chiamato dicendogli senti ho bisogno di soccorso, vieni, e poi è arrivato lui, basta. Si chiamano amici quelli. Si chiamano amici. Amici così, ve lo dico a voi, meglio perderli che trovarli, perché... Finita. E' stato un amore a prima vista? Sì, allora, io sono molto cauta, non perdo la testa immediatamente, però devo dire che avevo già sviluppato un po' di buonsenso, quindi avevo capito che era la persona, avevo intuito che era la persona che poteva andare bene per me. Cosa ti piace di lui, che poi ti piace ancora? Beh, che io detesto, poi chi mi segue lo sa, uso spesso la parola qua, 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 io detesto i qua, 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 cioè quelli che parlano, parlano, però poi alla fine dici sì, ma quindi alla fine... Invece mi è sembrato un ragazzo molto concreto già allora, perché ci siamo conosciuti comunque nel 2008, per cui è passato un bel po' di tempo, e quindi mi sono sposata con la persona giusta, ho avuto il mio adorato figlio con la persona giusta e sono molto felice. Invece quando dicevo i figli, perché qui ci sono dei fidanzati tra l'altro, voglio dirlo, voglio salutarli anche, loro due ad esempio, so che non si vedono, ma guarda lui come è innamorato, lui è bellissimo tra l'altro, perché è innamoratissimo, anche lei, però lei è più razionale, un po' come te, lei invece lui proprio fa quei regali, tu com'eri quando eri una ragazzina, avevi già il fidanzato da piccolo? Allora, io quando ero una ragazzina, il mio primo fidanzatino, diciamo un po' serio, ero molto coinvolta, era al liceo, giustamente, e infatti mi ha spezzato il cuore, io lo dico pubblicamente, mi ha spezzato il cuore. E' lì che sei andato un po' razionale. Eh sì, ho capito che forse per difendermi... Perché parliamone, forse sono psicologo tranquilla, si può superare un trauma che si può superare. No, niente, praticamente non capivo come mai non mi desse le attenzioni, le piccole e semplici attenzioni di cui avevo bisogno, in più era uno abbastanza brillante, quindi aveva anche un po' i piedi in più scarpe. Ah, un po', ok, ma c'era tu la biondina così, eri già così bella da ragazzina oppure sei come un anatroccolo che poi... Allora, io ti ringrazio, devo dire, adesso dirò una cosa che vi sembrerà molto strana, però forse tu, Giorgio, mi conosci da un po' di tempo, quindi lo sai, la parte estetica è la parte su cui ho provato a puntare meno, però di fatto è quella che mi hanno sempre più richiesto e quindi purtroppo ho dovuto cedere, ho provato anche a fare una comunicazione diversa, parlando di... ma niente, no? L'immagine, non è vero dell'immagine, infatti noi diciamo, viviamo tutto il mondo di immagini, ingoiamo immagini, purtroppo siamo quello che appariamo. E' questo tempo storico. E poi però ti racconto della radio perché è interessante questa cosa di scollamento, tra l'immagine e la voce. Però ecco, questi quindi, quando ero al liceo, io ero un maschiaccio, cioè andavo in giro con i capelli cortissimi, mi vestivo con le cose di mio fratello perché non avevo ancora colto l'importanza di questa cosa, insomma, dell'estetica che poteva essere veramente... Sei come Lisa, Lisa un'ora per truccarsi stamattina. Ecco. Lisa, guarda, è lei, un'ora per truccarsi. Tu quanto ci metti per truccarti? Io cinque minuti. No, cinque minuti perché... Come fanno quelli con cinque minuti. Cinque minuti. Sei brava, sei veloce. Ma perché non mi trucco tantissimo quando sono a casa, poi ho una vita normale, vado a prendere il mio figlio all'asile, cerco di essere il meno appariscente possibile, invece quando lavoro mi piace comunque regalare agli altri, regalare a me quell'immagine che mi piace, che è un po' va a legare quello che penso, quello che mi piace anche come abbigliamento, come trucco, come eleganza. E lì fai come Lisa, un'oretta ci vuole. Un'oretta ci vuole tutta. Infatti tu sei in trasmissione giusto. Oggi era giusto, oggi era giusto. Altra domanda che ti hanno fatto loro. Tra i tanti lavori che hai fatto, qual è stato quello che ti ha soddisfatta di più? Diciamo che mi hanno soddisfatta talmente tanto che quello che mi deve dare più soddisfazione deve ancora arrivare. Quando una donna non si ferma mai. Io no, non mi fermo mai e ho tanti sogni nel cassetto. E infatti davanti a voi la cosa principale che mi sento di dire è continuate ad alimentare questo cassetto, metteteci dentro sempre cose, perché davvero io sono il classico esempio della persona che mai si sarebbe aspettata di andare a fare la balletta di Mike, piuttosto che, non so, andare, non so, trovarsi a una piazza a presentare cantanti, raggi d'Italia. Non avrei mai pensato. Guarda qua che donna. Hai detto prima mai buongiorno. Sì. È una personaggio... Sapete chi era mai buongiorno voi? Lo sapete? Non guardano colorato ma non sanno chi è mai buongiorno. Com'era come personaggio? Cosa ti ha insegnato mai buongiorno? Eh beh, allora, quando l'ho conosciuto io era ormai l'ultima fase della sua carriera, quindi come tutti i personaggi che hanno vissuto veramente intensamente questo mondo televisivo che ti crea un po' di distacco poi dalla realtà, era un personaggio un po' difficile da gestire per tutti. Per tutti, ma la chiave di volte è stata che per me non era difficile, perché io nutrivo veramente quella sana ammirazione bella, perché io, non so, per me era la storia della televisione, quindi ero talmente contenta che non volevo mai sbagliare o indispettirlo per qualcosa. Perché lui se non era il professionale si arrabbiava. Lui si arrabbiava molto. Però nel mio caso aveva proprio capito che non c'era... cioè che io volevo lavorare, volevo fare le cose fatte bene, ma la cosa che mi ha più colpito poi di Mike, che lui mi ha regalato il suo libro, che aveva letto la versione di Mike, che aveva scritto così un po' tutta la storia della sua vita, e nella dedica che mi ha scritto, mi ha proprio fatto una specie di previsione della mia carriera. Quanto aveva scritto? Che nonostante tutte queste carriere adesso sono molto veloci, la mia sarebbe stata fulgida e lunga, perché io non mollo e mi impegno. E in effetti aveva letto questa cosa. Diciamo che nella velocità dell'apparenza e della televisione, della radio, c'è un po' quest'idea che se non fai la cosa a botto, wow, non so, il festival di Sanremo, queste cose, alla fine fatto il botto. Effetti speciali, botto, botto, boom, grazie. Siete troppo organizzati, ragazzi, manca niente. Non manca niente. Allora, per esempio, se adesso entrasse Leonardo Di Caprio... Vai Leonardo! E abbiamo con noi Leonardo! Ok, Leonardo non è arrivato. Non ha funzionato. Grazie a Nicola della regia che ha appena fatto Gianni in post-produzione Leonardo. Non ha funzionato. È stato un pippino di Capri, più che altro. No, però secondo me in questo lavoro, come in tutti, è importante essere presenti ed esserci facendo quello che ti piace fare. Francesco, però lui comunque davvero ci aveva azzeccato perché se io ho conosciuto tante persone perché appunto sono molto più vecchie di te e tu sei sempre rimasta, hai sempre lavorato, non hai mai disdegnato, ad esempio le televendite, alcuni no, no, anzi... No, poi piacerebbe fare una parentesina sulle televendite. E adesso le faccio perché è una bella cosa, anche lì è un bel lavoro, nel senso è un lavoro e l'hai fatto con gusto, non diceva che mi tocca fare questo e poi ti sei anche trasformata da personaggio televisivo, la radio, hai detto bene, come dici tu i social, perché tu gli dici meglio, io dico i social come proprio alla Bergamasco, ormai l'adozione comasco, ma però non hai mai smesso, cioè non molli davvero mai, questo ti fa davvero onore. Volevi dire invece sulle televendite? Allora, sì, io devo dire che questo mondo delle televendite mi ha sempre molto affascinata, fin da quando ero piccola. Io per esempio le guardavo le televendite quando ero... mi piaceva questo entusiasmo, che ci mette... vedevo questi conduttori entusiasti, vedevo Mastrota. Da voi ci lavori con Mastrota. È simpatico Mastrota? Tanto, tanto simpatico. È più simpatico? Delle televendite dici? Sì, è simpaticissimo. È simpaticissimo. Poi, adesso sto lavorando con Mastrota, con Marco Columbro, che è un altro mito per me assoluto, perché anche sono quelle persone che voi guardate in televisione adesso, non so, voi che programmi seguite? YouTube, credo. Poi seguite in televisione qualcosa lo guardate, sì. Lisa, cosa guardi? Temptation Island. Ah, Temptation Island. Grande Fratello, ha quelle cose culturali, ho capito, pensavo Piero Angelo. Pensavo Piero Angelo, preoccupare. E poi anche Alberto Angela, guardo tutto. Anche Alberto Angela, bene. Alberto Angela, mi sono girata per inquadrarla meglio, ma, però per esempio, se io dicessi il nome che è più sulla bocca di tutti, perché 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 se dico Barbara D'Urso, voi sapete chi è. Barbara D'Urso? Se un giorno uno di voi si trova seduto di fianco a Barbara D'Urso a condurre un programma, un talk show, insomma, sarebbe la stessa sensazione mia che ho quando mi trovo lì con Columbro, lo guardo e dico, ma cavolo, sono proprio io qua con Columbro a fare, cioè, perché il bello è provare sempre questa sensazione e non sentirsi mai. Non ti sei mai in difficoltà in una televendita che non ti trovavi col prodotto, così? No, 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 perché io i prodotti che non voglio fare e non li faccio. le scarte a priori. No, per me, ecco, credibilità è tutto, quindi, cioè, ci devi credere, io devo credere, devo andare in azienda, devo vedere che è tutto a posto, che il prodotto è giusto, no, perché poi voi dovete immaginare che io cammino per strada e mi fermano per strada per dirmi che gli è arrivata la doccia, che gli è arrivata la poltrona, e se c'è qualcosa che... ma la doccia non mi funziona questa cosa, come faccio a metterla a posto? Ma io sai cosa faccio? Io chiamo in azienda e faccio risolvere il progresso, perché mi sento coinvolta. Era Mike Buongiorno degli anni 2020, ma se sarai ricordata così? Non lo so, magari. Esatto, non farai il nostro spot, perché sennò poi finalmente guai. Poi, un'altra cosa, da dove nasce invece la tua passione per la pole dance? Ah beh, spieghiamo la casa, c'è il palo. Allora, la pole dance, sì, c'è un palo e si fanno delle evoluzioni ginniche, quindi spesso fraintesa con altri tipi di cose un po' più provocanti, da street dance, ma non c'è il palo. Non è la lap dance? Non è assolutamente la lap dance, anzi, è molto, è molto faticoso, molto... C'è la differenza che nella lap dance c'è il palo, nella pole dance invece c'è il palo. C'è il palo. Diciamo che è proprio diverso il movimento. Comunque, vi racconto come è nata la passione per la pole dance perché è bellissimo, ero a Sanremo con Radio Italia nel 2010 e sul palco, ero in sala, stavo guardando il festival, sul palco c'era Bonolis che conduceva, avevano organizzato uno show di pole dance, quindi c'erano delle ballerine di pole dance di Roma e c'è stata un'esibizione. Io ho visto, ho detto, ma devo tornare a Milano e provarlo immediatamente e così ho fatto, ho iniziato. E sei riuscita subito oppure all'inizio era faticata perché io alle medie, non so Paolo, ma io alle medie non uscio neanche a fare la pertica. Io neanche. C'è sempre bisogno di salire. Questione di gambe. Le gambe sono. Sì, sì, segreto sono le gambe. La fune non parliamo. Vedi che lui è esperto, Paolo sa. Eh sì, Paolo sa, ma Paolo è esperto di lap dance, volevo dirlo. Per quello perché io, io invece pratico lap dance e tifo lap dance piuttosto che pole dance. Allora facciamo la battle, siamo uno da parte dall'altro. Sì, la battle, battle pole. Battle lap, vabbè, sembra una cosa brutta. Però è bello, mi piace e tra l'altro attraverso i miei canali cerco di promuovere questo aspetto ginnico perché così è. Ma perché ti ti informa comunque. io c'ho il palo a casa, guarda, quella foto lì, io sono a casa mia. Ma non si è staccato mai, non si stacca il palo. No, non si stacca, non si stacca, no. E non viene mal di testa quando sei giù con la testa? No, anzi, ma in palestra ci sono anche gli inverter per mettersi apposta, testa in giù. Sì, una volta mi hanno messo la testa in giù qui ma non voglio più rifarlo, voglio dirvelo. Ma io infatti, Giorgio, scusa, mi aspettavo di trovare un bel palo per insegnarti due esercizi. Sì, ho detto proprio, sono assicurato che non ci fosse. Sono entrato un nottetempo e li ho tolti. Perché sono arrivata, sorpresa, sorpresa, e ho detto, magari c'è un bel palo. No, 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 prego Paolo. Ma invece quello con i nastri, bello anche quello, no? Sì, sì, è un cerchio appeso e tu fai delle evoluzioni dentro al cerchio. Bello. Però il palo è più... Faccio fatica già a stare seduto sulla sedia, io pensavo a te con il mio equilibrio precario. Comunque, questo perciò sono, è una tua, diciamo, specialità. Sei specializzata anche in questo. E tra l'altro l'ho anche utilizzato per un evento di un cliente. Avevo fatto un bel progetto come testimonial per un'azienda e eravamo una serie di testimoni avevano scelto me, Simone Ruggiati, la Selvaggia, Lucarelli e la Pinediego. Praticamente a ognuno di noi in questa serata evento di presentazione di questo prodotto è stato chiesto di presentare qualcosa di insolito. E io ho detto faccio il numero di pole dance, chi lo fa se no? E allora lì è stato il sogno della vita perché avevo i ballerini. La Pina non l'ha fatto. No. La Pina mi diceva io non so chi te l'ha fatto fare di fare questa cosa però vai. Vai, vai. Vai, ti ho detto. Vai. Una cosa invece, ragazzi, l'ultima domanda è una cosa perché la parte culturale è importante nell'educazione, la sapete, comunque loro fanno l'alternanza a scuola lavoro e poi hanno questa attenzione alla parte più culturale e ti chiedono infatti come hai fatto a vincere il premio Miss Piedidoro? Oh, bene, grazie di avermelo chiesto perché così l'angolo del feticista tra l'altro. Io ribatto questa domanda. Sai che quando noi abbiamo le ragazze che magari fanno il volto femminile di tutta Atalanta così, abbiamo dei telespettatori che mandano dei messaggi che noi ci consumiamo perché sono proprio appassionati di farmi vedere i piedi allora io l'ho scoperto e questa cosa risale a quando facevo la radio e direi come se non ti vedevano scusa la radio io però un giorno ho avuto un piccolo infortunio in radio a un piede e quindi abbiamo postato sui social questa storia che mi ero fatta male al piede perché tutti chiedevano e da lì hai avuto un boom di... Da lì io non so questo tam tam veramente però adesso io non solo mi trovo in tutte le pagine dei piedi ma poi anche vincitrice di concorsi ma anche piedi internazionali ma anche chi è che non fai i piedi internazionali ma cosa che ho scoperto quando avevo il gesso perché mi sono rotta il metatarso addirittura ci sono anche pagine dei piedi con i gessi cioè è un mondo però posso spezzare una lancia spezzamoli anche un unghia a favore dei... devo dire che questi gruppi sono comunque dei gruppi con me usano sempre un tipo di così comportamento educato sono gentili sono carini quindi a me non dà fastidio questa cosa anche perché vabbè è comunque una parte del mio corpo e non mi creerebbe mi creerebbe più imbarazzo se mi avessero messo Miss qualcos'altro allora la famosa Miss qualcos'altro invece i piedi non ci può stare l'ultima cosa che ti chiedo Francesca è proprio abbiamo detto appunto che hai fatto molti lavori hai lavorato con personaggi illustri sei in questo mondo quello dei social perciò con una presenza forte e lavori molto in questo ambito però c'è un aspetto dicevi appunto dei quelli diciamo i troll di quelli che magari ti possono insultare tu hai sempre questa eleganza un po' naturale e cerchi sempre di tenere un po' di distanza come te la cavi in questo che lavoro fai perché credo che riguardi anche tutti noi insomma allora io sono convinta che ognuno ha il pubblico che si costruisce che si merita un po' e infatti questa cosa me la chiedono spesso se che tipo di commenti ricevo anche in direct o comunque quando ricevo delle mail o comunque i commenti sotto i miei post sono sempre molto educati ma forse perché proprio io come tendenza non mi sono mai buttata in mezzo a polemiche a cose perché non è non è il mio stile non è il mio stile per cui se qualcuno poi vuole darmi un consiglio scrivermi una critica io l'accetto molto volentieri diciamo che le persone che vogliono trollare o fare delle cose o comunque scrivere cose di cattivo gusto non trovano terreno fertile sulle mie pagine quindi lasciano perdere perché non gli do seguito e non ci sono una cosa che voglio riconoscere visto che ne parlo con Paolo e si è detto come conosci Francesca una cosa che ti va riconosciuto è questa Paolo effettivamente non ha mai cercato la scorciatoia per diventare famosa nel senso che ci sono quelle che magari vogliono fanno appunto la polemica scatenano ed è un percorso che dà una probabilità molto rapida però e dà quelle conseguenze di cui parli comunque diventi un po' quel personaggio tu comunque un po' come una formica una formichina questo è un po' il motivo per cui e lo dichiaro anche qui vi sono detto dappertutto non mi vedrete mai a fare un programma tipo il Grande Fratello l'Isola dei Famosi mai quando volresti invece però presentare che cosa ti piacerebbe proprio hai visto da appunto hai detto Sanremo hai detto tante cose che hai visto beh a me piace molto l'intrattenimento e mi piace sentir raccontare delle storie perché sono proprio anche io curiosa di natura diciamo un po' come la D'Urso come la Parodi quei programmi lì che fanno diciamo più sulla Parodi più quel genere ma allora secondo me Barbara D'Urso è bravissima nel suo genere nel suo stile però non è il mio ma non è il mio come si riesce a prendere distanze essendo garbati grazie mille Francesca che sta con noi grazie per il tuo tempo e in bocca a lungo per tutto d'accordo? vai ragazzi grazie mille Francesca